Se siete curiosi di scoprire la vastità dei prodotti che il mio negozio offre, vi aspetto in via Antonio Gramsci, numero 6, Cava dei Tirreni, da Palmer Boristeria. La delibera numero 97 del 1 giugno 2023 dell'aggiunta di Cava dei Tirreni, con la quale si è decretata la chiusura di 5 centri anziani sul territorio comunale, non ha lasciato di certi indifferenti coloro che vivono quotidianamente queste strutture. I primi a mostrare il loro disappunto per tale decisione sono stati i membri del centro aggregazione anziani di San Giuseppe Alpuzzo, in una lettera a firma del presidente Mario Milito, in cui si chiede all'amministrazione di conoscere le reali motivazioni della scelta di chiudere alcuni centri. Tale ridimensionamento dovrebbe rientrare nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che ha l'obiettivo di abbattere le spese per un importo non inferiore al 50% rispetto al passato. Ad alimentare maggiormente la questione è anche il fatto che il consiglio comunale non sia stato informato della cosa. Una procedura questa discutibile si legge nella missiva, anche se in materia di costituzione dei centri è la giunta a decidere, come recita, la relativa delibera. La richiesta fatta all'amministrazione è quella di conoscere tutto l'iter burocratico delle scelte effettuate, visto che la decisione è stata presa senza il coinvolgimento ufficiale dei centri e senza la commissione consigliare. Inoltre, sempre da questa fase istruttoria, vogliamo conoscere, si legge ancora, se si è tenuto conto dei vari atti richiesti dal regolamento in materia di adempimenti da parte dei centri stessi. Il centro aggregazione anziani di San Giuseppe Alpozzo è stato uno dei primi ad operare sul territorio. La sua struttura comprende anche un campo di bocce messo a disposizione di altre realtà associative e ospita numerose attività sportive, teatrali e culturali. Dunque, a fronte proprio della storia e delle varie iniziative portate avanti dal centro, i suoi membri chiedono al sindaco Servalli e all'intera giunta di rivedere quanto deciso. In caso contrario, sono pronti a dar battaglia con manifestazioni e proteste per far conoscere le loro ragioni. Non abbiamo chiuso i centri anziani, ma abbiamo provato a razionalizzare un po', perché nel corso degli anni il numero di centri anziani è cresciuto molto, fino a diventare 15 o 16, con tutta una serie di conseguenze che questo comporta, perché per i nostri regolamenti il centro anziani è sostenuto dall'amministrazione con tutti i costi, tutte le spese, l'energia elettrica, eccetera, eccetera. Un contributo. Allora noi ci siamo resi conto, intanto che alcuni centri anziani erano veramente già, già non si svolgeva una grande attività al loro interno o per un numero molto ridotto di anziani. Allora ogni centro anziano è stato ascoltato dagli assessori Annette Altobello e Antonella Garofalo e gli è stato proposto una soluzione di accorpamento con un altro centro anziano, vicino o affine. Quindi si è detto a questi anziani, riunitevi con l'altro centro anziano che sta lì, in quella strada, in quel luogo, partecipate insieme a loro a tutte le attività e questo ci consente a noi, diciamo così, di essere più efficienti, più efficaci e se dobbiamo dare una mano, darla anche come si deve. E quindi quei centri anziani che non si sono voluti per loro esigenze comprensibili accorpare con altri centri anziani. Abbiamo dato una seconda proposta, a questo punto trasformatevi in associazione e ovviamente il rapporto collente si trasforma in maniera tale che dovete dare un canone, dovete pagare la corrente, dovete pagare le utenze, eccetera, eccetera, perché questo è più giusto, diciamo così, anche con una piccola quota che ogni anziano dà o può dare, che partecipa all'attività, ma diciamo tutto gratis a tutto neanche è più possibile.